In un gioco che sa di Natale, è un po' come chiudere gli occhi e immaginare un luogo in cui la realtà supera la fantasia. Al parco tematico di FICO Italy World, dedicato al cibo, a Bologna, si ha la sensazione di entrare in un mondo diverso in cui lasciarsi trascinare dalle emozioni. I bambini possono giocare e al tempo stesso imparare fra le giostre multimediali con 30 attrazioni diverse, mentre i grandi scoprono i segreti del buon cibo, del perfetto impasto della pizza, concorsi e degustazioni. È un luogo in cui io faccio esperienze, vengo per divertirmi, vengo per scoprire il cibo italiano, vengo per mangiare, vengo per gustare, infatti non a caso il parco ha da gustare. Faccio cose molto particolari perché posso mettere le mani in pasta e imparare a fare una pizza o fare la pasta. Posso salire su una rotonda, come dire, della pasta e scivolare in mezzo a una tagliatella. È un grande viaggio nel cibo italiano, però divertente e appassionante. Un viaggio che può contare 26 diverse esperienze di food, fra chioschi e ristoranti, stimolando i cinque sensi, coniugando la passione per il cibo con il divertimento e con un'attenzione particolare alla sostenibilità. Un parco a chilometro zero in cui 13 fabbriche producono per tutti gli altri operatori. Nessuno spreco e il più grande impianto fotovoltaico d'Italia per un Experience Park che si prepara a regalare un Natale indimenticabile. Questo Natale sarà un Natale speciale a Fico, un grande viaggio culinario nell'Italia dei Sapori. E il culmine sarà a Capodanno in cui Fico diventa il più grande ristorante d'Italia, aperto per Capodanno con 26 cenoni e la possibilità di scegliere quello che voglio mangiare a Capodanno in un grande spazio in sicurezza.